Ancora un prestigioso riconoscimento per il corso di laurea in disegno industriale e ambientale di SIA della Scuola di Architettura e Design e Vittoria dell'Università di Camerino. Lo scorso 14 novembre presso l'ADI Design Museum di Milano è stata ufficializzata la selezione nella categoria Ricerca per l'impresa dell'ADI Design Index 2022 del progetto SAFE, design sostenibile di sistemi di arredo intelligenti con funzione salvavita durante eventi sismici, coordinato dall'Università di Camerino e corresponsabile scientifico la professoressa Lucia Pietroni. L'ADI Design Index rappresenta la prima fase delle preselezioni per il compasso d'oro. Il più ambito e prestigioso riconoscimento nell'ambito del design. Nella categoria Targa Giovani, inoltre, è stato selezionato il progetto Unity Share di Alessandro Graciotti e Guido Catarozzo, studenti del corso di laurea in disegno industriale e ambientale di SIA. Contestualmente è stata inaugurata la mostra di tutti i progetti e prodotti selezionati, che dal 12 dicembre si trasferirà a Roma.